Ciao a tutti, io sono il Dilando Gofilo. Oggi recensione dell'album in sile numero 79, La Fata del Male, copertina di Angelo Stanno in questa occasione particolarmente riuscita. Troviamo infatti qui uno dei personaggi protagonisti di questa avventura, graficurato davvero molto bene, un personaggio disegnato, riprodotto fedelmente anche qui in copertina. Quindi Angelo Stanno che questa volta riesce a caratterizzare il volto e la corporatura dei personaggi in copertina tale e quale a quelle che troveremo all'interno dell'avventura. Quindi non c'è di sintonia questa volta fra la copertina e il racconto stesso, per fortuna. A me fa davvero molta paura, quindi non so a voi, ma a me questo, insomma, cerchiamo di sorvolare in fretta la copertina perché più la guardo più mi fa impressione. Qui abbiamo la Banshee, ovvero la Fata del Male, qui Dylan è rappresentato molto bene. Uno sguardo che questa volta convince, forse una spalla un pochino troppo inarcata, ma comunque copertina superiore fortunatamente alla media. Testa e sceneggiatura di Chiaverotti e disegni di Rinaldi. La Fata del Male, cosa succede? Dylan viene chiamato ad indagare su un caso di zombie. Praticamente in un paesino sperduto in Irlanda c'è questa ragazza che telefona a Dylan e dice di raggiungerla perché suo papà è ritornato in vita. Suo papà che è morto da pochissimo tempo, tutto ad un tratto, dalla tomba si sveglia e inizia a compiere delitti e cose davvero molto brutte. Soprattutto il primo delitto avviene. Il primo delitto è quello che riguarda l'ex amante di quest'uomo. Quindi la ragazza si preoccupa e incarica Dylan anche di rintracciare suo padre e capire cosa sta succedendo. Nel frattempo cosa scoprirà Dylan in questa avventura? Scoprirà che questa ragazza che si chiama Banshee è davvero una portatrice di sfortuna. Banshee è una Fata del Male Augurio che in Irlanda, diciamo, questo nome deriva da una leggenda irlandese. Tutti la prendono in giro e dicono, eh, porti sfortuna, porti sfortuna, ma è tutto vero purtroppo. E qui Chiaverotti si sbizzarrisce davvero l'oro che in questa storia compare a Yosa. Quindi Chiaverotti che si sbizzarrisce nelle scene horror e implementa questo elemento horror come fulcro principale di tutta l'avventura. Con questo voglio dire che per dimostrare che questa ragazza effettivamente porta scalogna, Chiaverotti inserisce in maniera continua diverse situazioni in cui si evidenzierà per l'appunto questa verità nel portare sfortuna da parte di questa ragazza. Quindi davvero tanta dimostrazione di una teoria che inizialmente viene presa un po' in maniera scettica che dopo invece verrà presa in seria considerazione soprattutto da parte di Dylan che vorrà scoprire da dove derivano questi poteri paranormali di questa ragazza che purtroppo a essa non riesce a controllare. Di conseguenza, questo personaggio che vediamo in copertina è uno dei tantissimi frutti malvagi di questo potere paranormale. Quindi questo personaggio sarà il portavoce, sarà il capobranco di tutti questi brutti incubi che si susseguiranno uno dopo l'altro. In particolar modo questa bambola viene ritrovata per terra, abbandonata da un bambino. Questo bambino che dopo andrà da questa ragazza qui che si chiama Banshee, Banshee darà un bacio a questa bambola e da qui si scatenerà praticamente l'inferno, questa bambola che sarà il fil rouge di un continuo filone oro. Quindi parte tutto da questa bambola e questa diramificazione dell'oro va a inserirsi in ogni singola, in ogni singolo personaggio che troveremo all'interno dell'avventura, in ogni singola situazione. Quindi questa bambola percorre davvero qualsiasi tipo di situazione e va a modificarla. Ad esempio per assurdo si ritrova ad una festa di gnomi e qui uccide una fata, poi questa bambola va da un'altra parte, da una famiglia e crea scompiglio questa famiglia, poi verrà uccisa dalla bambola stessa, ma dopo questa famiglia si risveglia e scatenerà qualcos'altro. Insomma è un continuo scatenare pasticci. Questa ragazza, Banshee, non fa altro che creare disagio e scompiglio per la sua cittadina. A questo punto Dylan, una volta che è convinto che questa ragazza porta sfortuna, cosa fa? Non riesce a fare niente purtroppo lui. Riesce solo a ripercorrere in che modo abbia avuto i poteri questa ragazza. Perché infatti non sarà Dylan in primo piano a fermare questa ragazza folle, o meglio questa ragazza dotata di poteri paranormali che non riesce a controllare, ma sarà la ragazza stessa a fermarsi. Infatti qualsiasi cosa tocchi questa ragazza si trasforma in un incubo, in un disastro, in un omicidio, quindi questa ragazza alla fine dell'avventura decide di togliersi la vita di modo da non influenzare più in alcun modo, in un'alcuna maniera negativa, qualsiasi cosa che gli capiti sotto mano. Dylan si è similfidanzato con questa ragazza e quindi come gesto estremo Banshee effettua anche il suicidio per salvare Dylan perché potrebbe essere una potenziale vittima, questa ragazza che prima di Dylan aveva un altro, quell'altro lì è andato a finire male in un incidente, è andato fuori strada con la propria moto, l'incidente si è rivelato mortale. Insomma, questa ragazza che è chiaverote e che ci illustra in maniera davvero particolarmente avvincente una situazione di vita quotidiana di una ragazza con poteri paranormali incontrollati. Ecco, questa è proprio la storia che ci viene presentata da Chiaverotti. Non è un caso particolare di Dylan Dog, ma Dylan si ritrova vittima degli eventi, anche per citare un famoso film che ho recessito in passato. Vittima degli eventi è proprio Dylan, è proprio il modo migliore in cui Dylan si presenta in questa avventura. Quindi non indagherà sì, ma non riuscirà a risolvere il caso perché, come detto prima, sarà la ragazza che ha iniziato a scaturire tutti questi incubi e sarà anche la ragazza a terminarli. Dunque, vi stavo dicendo, l'unica cosa che riuscirà a scoprire Dylan nel mentre è la storia di questa Banshee, che non è stata chiamata così a caso. Banshee è un nome davvero particolare che gli è stato assegnato da suo padre, cosa è successo? Questa ragazzina qui, quando è nata, è nata morta. E allora suo padre è uscito fuori da casa, perché ha partorito a casa la moglie, questo padre ha strappato dalle braccia la figlia della moglie, è andato fuori e ha invocato tutte le divinità possibili e inimmaginabili, sia del bene sia del male, per restituire e regalare la vita in qualche modo a questa bambina. Ecco, ora ci arriviamo e capiamo finalmente chi è veramente questa Banshee. Allora, vi dicevo, questa bambina arriva nel mondo, quindi a questa bambina viene donata la vita, ma questa vita è stata donata da tante persone che moriranno al posto suo. Quindi, questa bambina è nata morta, riceverà la vita, ma a questa vita poi ci sarà uno scambio continuo fra la vita e la morte per dare sì vita alla ragazza, ma nel frattempo viene tolta agli altri. Quindi, per far vivere questa ragazza le divinità del bene o del male, non si è ancora capito chi, per esattezza, vanno in giro e tolgono la vita ad altri per regalarla alla ragazza. Ecco, questo qui è il punto chiave di tutta la vicenda, della storia vera e propria di questa ragazza. Quindi, l'alb questo mi è piaciuto, ora andiamo nei particolari. Allora, praticamente viene narrato in questa vicenda che il potere paranormale di questa ragazza è praticamente l'antimateria. Antimateria che verrà suggerita come teoria da Lord E. G. G. Wells, che farà un ritorno in grande stile in questa avventura. Lord E. G. G. Wells, che aiuterà Dylan a capire le origini di questa ragazza. Lord E. G. G. Wells, che si dimostra anche un amico davvero molto disponibile e aiuterà in maniera molto significativa Dylan nel proseguire delle sue indagini. Poi, ci sarà Grauccio, che poverino, rimane a casa solo soletto, nell'unica battuta che dice in questo albo. fa una battuta davvero molto simpatica. Vi consiglio di andarla a leggere. Come detto prima, l'horror è davvero molto, molto, molto presente. Praticamente in ogni pagina c'è una scena horror. È davvero ben riuscita. Chiaverotti che riesce a regalare davvero un horror superiore in questo Dylan Dog ai lettori. Non vi voglio spoilerare tutte le scene horror che sono presenti in questo albo perché sta nel gusto della lettura andare a cercarle e ad apprezzarle. Quindi non voglio farvi vedere tutte le scene horror bellissime. Andate a scoprirle voi in prima persona. Che altro dire? L'unica cosa che ho notato nel corso della mia lettura è il lettering. Attenzione, questa volta ci va di mezzo anche Diana Rocchi che tutt'oggi fa il lettering nelle storie di Dylan Dog. Lavora da tantissimo tempo per Dylan Dog. Ma cosa succede? In questa storia, in particolar modo in questa storia, a volte ci sono degli errori grammaticali, o meglio grammaticali. Diciamo, certe volte c'è l'accento dove non ci dovrebbe essere. Certe volte ci sono le virgole nel posto sbagliato. Certe volte ci sono giusto due o tre lettere che si ripetono. Insomma, un lettering poco preciso e non negligente perché comunque è stato effettuato un ottimo lavoro come al solito. Ma qualche leggera imprecisione che fa sì che la lettura non risulti particolarmente scorrevole. Tantissimi balloon riempiti con le parole di Diana Rocchi ma attenzione ad un certo punto adesso non riesco a trovare la vignetta esatta perché ce ne sono davvero tantissime. Gli errori sono giusto tra quattro, non sono tantissimi. Però alcune volte, mentre si va a leggere le parole, si notano dei forti errori grammaticali. Bisogna starmi un po' a ragionare per reinterpretare la frase perché la frase è grammaticalmente scorretta. Quindi qualche problemino nella lettura a causa di qualche errore. Che altro dire? I disegni. I disegni sono di Rinaldi, disegni davvero eccellenti. Un senso di solidità davvero unico. Solidità davvero nel pieno senso della parola. Questi mobili sembrano davvero solidi, molto pieni. Sembra proprio un mobile di legno ben fatto, così come la poltrona. Così come, vabbè, particolare e molto macabro. La cassa da morto, vedete, sembra proprio un legno davvero molto solido. Disegni molto densi e molto, diciamo, forti e decisi da questo punto di vista. E poi abbiamo anche un notevole tratto, un notevole tratto molto sottile, molto dettagliato. E in più una particolarità di questi disegni che davvero è uno stile di disegno molto particolare perché ogni singola vignetta, nonostante siano state disegnate davvero decine e decine di vignette, non ho mai trovato un disegno sproporzionato rispetto ad un altro. Quindi, come sapete, in Dylan Dog a volte troviamo dei disegnatori che da una vignetta all'altra cambiano espressione a Dylan, insomma disegnano un pochino maluccio, magari da una vignetta all'altra le proporzioni non sono troppo azzeccate. Invece Rinaldi, davvero artista a 360 gradi, non ha mai sbagliato nessuna proporzione di nessuna vignetta ed è riuscito a restituire le espressioni giuste in ogni singolo personaggio senza storpiarne il volto. Ecco, quindi disegni davvero molto molto equilibrati. Un disegnatore davvero di altissimi livelli che va a compiere un ottimo lavoro per quanto riguarda anche questo lavoro su un fumetto d'autore. Quindi disegni che vanno ad accrescere il valore di questo albo, disegni che mi sono davvero piaciuti. Oltre che essere puntuali, precisi, decisi, dinamici e non sproporzionati sono dei disegni che davvero sono anche belli proprio da vedere. Quindi Rinaldi che riesce a restituire anche e soprattutto un'atmosfera horror unica perché soprattutto le espressioni della bambola, questa bambola che sarà presente da quasi la prima all'ultima pagina è una bambola che nonostante sia fatta di porcellana riesce a comunicare comunque delle emozioni davvero forti. Dunque una storia improntata fortemente all'oro con una trama ben solida, ben strutturata dei disegni davvero fantastici, qualche inceppamento su lettering che comunque è un albo che promuovo a pieni voti 8+. Per il momento è tutto, se questa recensione ti è piaciuta condividila dove vuoi con chi vuoi iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo del narratore dell'incubo.